Questo è il video introduzione della nuova serie di video qui su YouTube e sulle principali piattaforme di streaming intitolata Domande da Colloquio. È da più di un anno che pubblico costantemente puntate della serie Vita da Ingegnere, dove vi racconto, dopo la laurea in ingegneria, che cosa accade nel mondo professionale. Tanti di voi mi avete aggiunto su LinkedIn, mi avete inviato dei messaggi. Come sapete, io accetto i vostri collegamenti e rispondo a tutti. Tra le varie domande che mi avete posto, spesso capitano domande relative ai colloqui. Ad esempio, se il recruiter mi dovesse chiedere, mi parli di lei? O se il recruiter mi dovesse chiedere qual è la sua aspettativa salariale? Come dovrei rispondere? Quindi ho pensato di iniziare questa nuova serie di video. I video saranno molto brevi e andranno dritto al punto. Quindi quello che è in mente è di iniziare i futuri video di questa serie proprio leggendo la domanda e dandovi la mia miglior risposta. I colloqui di lavoro sono fatti fra esseri umani, fra chi vi fa l'intervista e voi. Quindi, essendo una discussione fra esseri umani, non esiste una risposta al 100% giusta e una risposta al 100% sbagliata. Io vi darò semplicemente la mia miglior risposta. Infatti in questi anni, avendo cambiato più di un'azienda e avendo fatto tanti colloqui, ho speso tantissimo tempo per studiare e per riflettere su come rispondere bene alle domande da colloquio. Quello che vi consiglio è di non ripetere le risposte a memoria, ma semplicemente di ascoltare ad esempio le risposte e trarre una ispirazione. Dopodiché, voi ripetendole tante volte, facendo dei colloqui prova davanti allo specchio o magari con qualche amico che vi può aiutare, piano piano vedete che diventerete molto fluenti. Perché ricordatevi che quando vi presentate di fronte ad un'azienda, tutti hanno la laurea. Ormai quasi tutti parlano inglese. Quindi, ciò che fa la differenza non è tanto il contenuto tecnico, le abilità tecniche, la laurea, i certificati che avete. Ciò che fa la differenza è come vi presentate, cosa dite voi durante il colloquio. Spero che questa nuova serie di video vi piacerà e vi chiedo di lasciarmi nei commenti delle domande delle quali siete curiosi di sapere la risposta. E io vi darò la mia miglior risposta. Penso che su YouTube Italia questa sia la prima serie che tratta nello specifico le domande tipiche da colloquio. Vi chiedo semplicemente una cosa. Andate su YouTube, cercate Placiduccio e iscrivetevi al canale. È un gesto totalmente gratuito da parte vostra, ma che a me motiva tantissimo a continuare a produrre contenuti. Grazie e ci vediamo al prossimo video della serie Domande da Colloquio.